La nuova linea di prodotto che lanciamo quest'estate, che è la linea LTK, dedicata a tutte le attività in montagna molto veloce, che può essere la camminata molto rapida, la camminata in salita in discesa, l'attività di corsa in montagna, con un obiettivo di essere polivalente su tutte le stagioni, primavera, autunno, estate, inverno. Qua presenterei un capo molto innovativo, con una doppia costruzione, cabina del tessuto Gore-Tex Windstopper Peroniac, con un tessuto in microfibra a 50 grammi, molto molto leggero, che permette di avere un'ottima protezione a livello del capo e delle spalle, ma anche avere un'ottima protezione contro il vento e contro la pioggia sulla parte frontale. Sono dei capi che sono realizzati all'interno delle nostre fabbriche, con la ventilazione sotto le scelle e con questa costruzione molto dedicata alla protezione completa. Per abbinare a queste attività abbiamo tutta una linea di zaini, che è stata sviluppata già dall'anno scorso e quest'anno è nel pieno del suo sviluppo, la linea con il bubble air, che è uno schienale termoformato, con dei canali molto molto leggeri pronunciati per la ventilazione. Abbiamo fatto sia le cinture che le bretelle con delle schiume molto leggere e forate per dare uno zaino ultra leggero per tutte le attività molto veloci di fast hiking. I tessuti anche qua sono abbinati con tessuti stretch sulla parte laterale e la parte frontale e dei tessuti on e comb che dà la resistenza allo zaino. Questi prodotti dedicati alla camminata veloce sono fatti all'interno della nostra collezione con l'abbigliamento, di zaino e le scarpe.